hanno intercettato una telefonata tra il boss e lo scagnozzo lo sapete che ci sono le intercettazioni telefoniche dice pronto Calogero, quel lavoro lo hai eseguito dice certo capo, quel porco l'ho buttato giù dal ponte a 300 metri di altezza e morto sul colpo dice bravo Calogero, sapevo che mi potevo fidare di te e dimmi una cosa, hai fatto in modo che sembra un colpo di sonno dice certo capo, prima di Calogero, oggi mi scupigiamo ora dico una cosa del genere ma poi io starò in vostra compagnia per circa un'ora